che noi usciamo, che voi usciate, che loro escano. Altri verbi irregolari sono avere, che io abbia, che tu abbia, che lui abbia, che noi abbiamo, che voi abbiate, che loro abbiano. Essere, che io sia, che tu sia, che lui sia, che noi siamo, che voi siate, che loro siano. Bere, che io beva, che tu beva, che lui beva, che noi beviamo, che voi beviate, che loro bevano. Stare, che io stia, che tu stia, che lui stia, che noi stiamo, che voi stiate, che loro stiano. Dare, che io dia, che tu dia, che lui dia, che noi diamo, che voi diate, che loro diano. Venire, che io venga, che tu venga, che lui venga, che noi veniamo, che voi veniate, che loro vengano. Tenere, che io tenga, che tu tenga, che lui tenga, che noi teniamo, che voi teniate, che loro tengano. Rimanere, che io rimanga, che tu rimanga, che lui rimanga, che noi rimaniamo, che voi rimaniate, che loro rimangano. Salire, Che io salga, che tu salga, che lui salga, che noi saliamo, che voi saliate, che loro salgano. E l'ultimo verbo spegnere, ausschalten. Che io spenga, che tu spenga, che lui spenga, che noi spegniamo, che voi spegnate, che loro spengano. Per riassumere, il congiuntivo esprime possibilità, opinioni personali, stati d'animo, desiderio, dubbio. Si usa, se nella frase principale e quella subordinata ci sono due soggetti diversi, si usa nelle frasi impersonali che iniziano con il verbo è. Le prime tre persone singolari hanno la stessa forma, la prima persona plurale, noi, è uguale all'indicativo presente. Spero che il congiuntivo presente adesso sia più chiaro e vi ricordo che potete trovare la trascrizione dell'episodio sulla pagina www.il-tedesco.it Vi ringrazio per l'ascolto e arrivederci al prossimo podcast dalla vostra insegnante d'italiano Luisa. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!